Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 3 km di coda per incidente tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione Firenze, coda in uscita a Firenze Sud per chi proviene da Bologna. Sulla Firenze Mare restano code per traffico tra Pistoia e BV111 e per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra BV11 Firenze Nord e Firenze Peretola, tutto in direzione di Firenze. Ci spostiamo in Fipiri dove troviamo rallentamenti per traffico tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici verso Firenze per traffico e inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, per accertamenti delle forze dell'ordine a causa della presenza indebita di persone lungo la sede ferroviaria la circolazione è temporaneamente sospesa tra Torre del Lago e Pisa. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Infio, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!